Non ci sono buone notizie, signori, purtroppo per Chiara Ferragni e Fedez, perché danno insieme l'addio, anche se triste, alla cagnolina Matilda, quel bulldog francese che era di famiglia fin dall'anno 2010, quindi poi lo so già che per tutti gli amanti degli animali è già una pezza di per sé. Una notizia sicuramente triste, soprattutto guardando bene l'immagine che tra poco vi farò vedere ancora meglio, ma l'avete già vista nella copertina. A dare l'addio è stata l'imprenditrice e influencer con un lungo e commovente post su Instagram. Tutto quello che volevo dirti te l'ho detto all'orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi 13 anni insieme sei stata la mia bambina e dallo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre, la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai creato quella che è la nostra famiglia. Eri tu, il cane di Chiara Ferragni, di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina continua Chiara mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di sorella maggiore, hai regalato loro l'esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia. Ieri, dopo averti salutata per l'ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perché così potevamo salutarti sempre anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo lo sentio sempre. Mi mancherà tutto di temati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba. Anche Fedez ha voluto salutare Matilda con un post su Instagram. Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti. Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vitton e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi sette anni. Eri con noi quando è nato Leo. Eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi, il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.